l'analisi logica è un esercizio fondamentale per lo studio della lingua italiana così come quella grammaticale anche l'analisi logica ti accompagnerà fino al diploma e oltre l'analisi logica è utile anche per lo studio anche di altre lingue classiche o moderne che siano come mai è così importante saperla fare perché è un esercizio fondamentale per interpretare un testo in questa guida ti spieghermo come si fa l'analisi logica cos'è e a cosa serve analisi logica sc h e m a questo proposito facciamo immediatamente chiarezza l'obiettivo dell'analisi logica in parole povere è quello di fare chiarezza sui rapporti che ci sono tra i vari componenti della frase che siano soggetto predicato o complementi rendendola chiara per tutti le prime cose che devi chiederti quando fai l'analisi logica di una frase sono cosa significa quello che sto leggendo quale funzione hanno le parole all'interno della frase cosa mi fanno capire quale rapporto c'è tra queste parole analisi logica soggetto predicato e complementi fatto ciò comincia con l'identificare i seguenti elementi soggetto per identificarlo devi capire se sei di fronte ad una frase attiva o passiva nella frase attiva il soggetto è colui che compie l'azione es marco soggetto ha un gatto nella frase passiva invece il soggetto è colui che subisce un'azione compiuta da altri es marco è stato rimproverato dalla maestra predicato tutti sappiamo che il predicato è un verbo ma bisogna fare attenzione a distinguere tra predicato verbale pv lo riconosci perché è formato da soli verbi il suo scopo è descrivere un'azione fatta o subita dal soggetto uno stato un evento eccetera sempre in relazione al soggetto es marco soggetto ha mangiato pv predicato nominale pn è formato dal verbo essere più un aggettivo o un nome in questo caso si distinguono due particelle la copula ossia il verbo essere e la parte nominale cioè il nome o l'aggettivo che indicano il modo di essere del soggetto qui i tranelli da evitare sono due non sempre il verbo essere è copula dato che può anche essere usato come ausiliare es marco è bello predicato nominale es marco è andato via predicato verbale a volte si tende a confondere la parte nominale col complemento oggetto in questi casi è la presenza del verbo essere a renderti certo di essere di fronte ad un predicato nominale es marco è una sagoma non va analizzato così marco sog è pv una sagoma complemento oggetto ma così marco sog è copula una sagoma parte nominale focus analisi grammaticale tutte le regole eventuali attributi e apposizioni entrambe queste particelle hanno lo scopo di attribuire una qualità al nome a cui si riferiscono per questo spesso vengono scambiate tra di loro in realtà per non confonderti di basterà ricordare che l'attributo è un aggettivo o un participio passato di un verbo utilizzato come tale es marco sog a pv un bel libro complemento oggetto con bel uguale attributo del complemento oggetto attenzione però a non fare confusione con il predicato nominale ricorda infatti che se l'aggettivo è preceduto dal verbo essere sei di fronte ad una copola e ad una parte nominale es marco è bello la posizione invece è un nome che attribuisce una qualità a un altro nome es marco sog un ragazzo a posizione di roma a due cagnolini complementi come dice il nome servono a completare l'informazione contenuta nella frase essi rientrano nelle seguenti tre macro categorie diretti indiretti avverbiali scopriteli tutti nella nostra galleri che trovi qui sotto domande e amp risposte come si fa l'analisi logica per fare l'analisi logica è necessario riconoscere tutti i componenti di una frase cosa sono i predicati i predicati sono verbi e possono essere verbali o nominali quali sono i predicati verbali sono riconoscibili perché sono formati da verbi e servono per descrivere un'azione uno stato un evento in relazione al soggetto cos'è un sintagma un sintagma è un'unità autonoma di un periodo grazie 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 grazie